Dopo lo stop forzato del 2021 torna Sport per la vita. Sarà il Palamagetti di Roseto degli Abruzzi ancora una volta ad ospitare sabato 30 aprile lo spettacolo dei grandi campioni del mondo del pattinaggio a rotelle per un galà da non perdere. Uno spettacolo che si fonda sui grandi valori dello sport e della condivisione dove atleti di origine diverse si incontrano per donare bellezza e gioia. Ancora una volta non mancherà la solidarietà. Infatti il ricavato sarà devoluto per sostenere il centro regionale fibrosicistica dell'ospedale di Atri. Sono felicissima di riproporre Sport per la vita che è una manifestazione che abbiamo nel cuore. Quindi da 36esima edizione non potevamo mancare e quindi abbiamo fatto di tutto per poterla portare avanti. Quindi ci siamo e sabato 30 aprile tutti al palazzetto ad emozionarci insieme. Il comune di Roseto dopo il tennis e il basket come sottolineato dal sindaco Mario Nunez è ancora una volta capitale dello sport. Sport per la vita è un evento importante, un evento storico, un evento che dà prestigio alla città ed è uno sport che qualcuno considera uno sport di nicchia ma vedendo le decine, le centinaia di atleti che si esibiranno quella sera il 30 aprile presso il nostro Palamaggetti sarà forse qualcuno dovrà rendersi conto che non è più uno sport di nicchia. Uno sport che avvicina tanti giovani, tante giovani, non solo ragazze ma anche ragazzi. È uno sport completo a livello agonistico, uno sport che unisce l'agonismo, l'atleticità all'arte. Ecco questa arte che deve essere il bello che salverà il mondo. Ospite d'onore dell'evento Tommaso Stanzini. Già campione italiano ed europeo, di specialità è diventato famoso per la sua partecipazione a Italia's Got Talent e nel 2020 al talent show Amici di Maria De Filippi. Sì, amato dai giovani, Tommaso Stanzani che è stato uno dei partecipanti alla trasmissione di Amici quindi è molto atteso da tutte le ragazzine.